no no non è una cosa che piace farlo strano eccoci fa pronti no eh fantastico oggi bel taglio drastico allora Allora iniziamo a togliere il grosso, quindi tagliamo tutta la bella codona, sciampino e poi facciamo bene il taglio, ok? Vamonos No, 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 no Faccio io Faccio io Ok Come massaggi bene Grazie Giulio Oh come gogo Oh 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 appunto gi toco 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 ah ah Cosa? Quando vai sotto con le mani così Bello Vai sotto, vai sotto, vai sotto ancora Ooooooh Corro, ancora, ancora Ooooooh Corro, ancora, oh Oh, 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 oh Ci teniamo a fare lo shampoo di natura Cos'è il miglior? La cosa viene fuori lo shampoo? Scusate, ti ricordi? Già la faccio, non lo ricordo Ok Ci siamo Ok, quindi facciamo il taglio Allora, adesso qui, perciò ancora un pochino Una cosa da portare un pochino indietro allora Yes Preferireci portare un po' verso destra O più verso sinistra Cambia qualcosa? Dipende dalla tua comodità Ma, eh, per me l'ideale è che Se un taglio, possa essere un taglio magari Variabile Variabile Sia Dietro, sinistra, destra, su, giù Arriva Sai che mi piace farlo strano Ottimo Cresta, punk No, troppo? Il termine troppo non esiste per me Giusto osservazione No, allora, per quanto riguarda il laterale appunto Come ti dicevo La foto che mi hai fatto vedere Aveva appunto il laterale un pochino più lungo Aha, ok Ma io faccio l'amore lungo lungo Quindi iniziamo a impostarlo Però poi sarà da far crescere appena appena In modo che questo qua possa pettinare un pochino indietro Ok, ok, ok Però intanto lo proporzioni, giusto? Si, ovviamente è in generale 2 Grazie a tutti. 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 E' bello non mi schizzi così. Grazie a tutti. 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 Tu preferisci un effetto asciutto o un effetto bagnato? il volume e il volume e il capello. Grazie a tutti.